Il momento peggiore della crisi è alle spalle? Forse, ma riflessi negativi continuano a farsi sentire soprattutto nel mondo del commercio al dettaglio. A dirlo sono le rilevazioni dell'osservatorio Confesercenti. Tra gennaio e febbraio il saldo tra aperture di nuove attività e cessazioni è ancora negativo. Un dato tra i peggiori, se non il peggiore in assoluto, degli ultimi anni. A chiudere sono state soprattutto donne e imprenditori over 50, mentre ad aprire con maggior frequenza giovani e stranieri. Nel dettaglio, nei primi due mesi del 2014 sono state 107 le attività che hanno cessato in tutta la provincia, 27 delle quali solo nel comune di Lucca. Analizzando le singole categorie colpisce ancora una volta la crisi di abbigliamento e ristorazione. Per quanto riguarda il primo settore, in provincia tra gennaio e febbraio, una sola nuova apertura a fronte di 15 chiusure. A Lucca 4 cessazioni e nessuna nuova iscrizione. Ancor peggio, il settore di ristorazione e bar che in provincia registra un saldo negativo di 50 attività e a Lucca di 11. Bisogna mettersi ad un tavolo, commenta Emanuele Pasquini, vice direttore di Confesercenti Toscana Nord per rimodulare le tariffe, dal solo pubblico ai rifiuti e soprattutto per lavorare su strumenti urbanistici che regolino le facili aperture, le cui conseguenze sono evidentemente negative. Senza dimenticare la grande distribuzione, basta con i facili entusiasmi, dice Pasquini, per strutture che non fanno altro che drenare risorse locali con poche ricadute sul territorio.